Palla adesso per, mamma mia, il Gabriele, palla adesso per Davide Panina, Panina la passa, ci sembra Mirko, viene buttato a terra, forse c'è fallo, forse no, sta di fatto che è stato fischiato un fallo per la Cremonese. Si appresta Alessandro a battere questa punizione, si guarda in alto, palla in aria, colpo di testa e gol, gol di Enrico, clamoroso a Wembley, andaremo tutta la partita per questo gol, bravissimi ragazzi, colpo di testa di Enrico e gol, 2-0, grande. Grandioso questo gol, Enrico Girelli, numero 7.